Sotto il muro è apparato sabbia e muro. C'è una amareggiata che sta arrivando di 6 metri e 90, che ha i telefonini e voi i veriti. E siamo abbandonati, le comuni e di tutto. Stiamo venendo per poter stare, che non ci stiamo a mancare uno, per i nostri diritti come siamo i cittadini e pagiamo i nostri tassi. È giusto o non è giusto? La spazzatura non andano a prendere, la terra non andano a cacciare, ma noi ora vogliamo che io sotto il muro, che io stai allineando tutti i nostri che siamo. Stiamo tutti allineando, come fuimo? Dov'è che ci sarà un'altra amareggiata? Sì, ora, tra sabato, domenica, lunedì, e la telefonina urici. Prima era il tempo che faccio. Noi vogliamo che mi mandano una motopala e mi disbarazzo la terra. Ma il sindaco l'ha ricevuto? Ancora non c'è un sindaco. Viene le ore 11, non viene prima delle 11. E stiamo aspettando a tutti quanti se ci ricevono a fare questi lavori, o meno che mandano una motopala a pulire i muri. Cercate solo una motopala? Sì, per pulire i muri. E basta. Non solo che hanno lasciato il paese tutto sporco, abbandonato, pieno di sporcizia, di terra e di tutto. Vogliamo solo i nostri diritti del cittadino. Noi pensavano i catti, ma cacciavano i mezzi, le macchine, e che hanno cacciato la terra. E non viene nessuno. Hanno sentito questa samaraggiata. Ora andrà stata ammazzata, che la sabbia è scaricata, e la marinella, e vedete che c'è? E vedete che c'è sulla spiaggia la marinella. Una spiaggia che è una sabbia, caricata, non stiamo tutti dal lungomare. E passavamo i guai quando è passata. Il mare viene da una porta, io mi ho messo i cinque. Ho parato, e ilta, e cinque con la pompa, per me lavo, non viene nessun spazzino. Mi mi porto in un'altra faccia tutti i spazzini. Se viene una marinella, mi scoprono, la ti uso, la ti uso, e la ti uso. Questo murucane doveva essere scavato, no? Dove essere scavato con la motopala. Perché non vinono? Per me scavano. Ora il mare, forza regge, indietta pure i casi. A una me gira, non mi interviene. Forza dieci si preveglie. Otto no, otto e mezzo, e siamo già. Scusate, come facciamo noi? Perché non abbandonano? Potremmo non mi scavano, come era scavato libero un muro. Dai, qualcuno l'abbiamo a peggiare noi. A una me gira mentre rivolgiamo. Oltre la spazzatura che c'è in giro. Oltre la spazzatura, c'è, fice la differenziata, che fice la differenziata? Non fice niente. L'avevamo tutta intrammonsaiata. E quando no, è tamoiani. All'è, poi andava, i bambini che avevamo piccolini, che la puzza si muore.